E' sempre più confortante il dato relativo alla diffusione del coronavirus in Puglia. La curva dell'epidemia continua a mantenere un'andatura ragionevole, facendo registrare in base alle informazioni fornite dalla regione solo 8 nuovi contagi, mentre sono stati 866 i tamponi effettuati nella giornata di oggi, lunedì 18 maggio. Sette dei nuovi casi odierni sono stati segnalati nella provincia di Bari e riguarderebbero in particolare la città di Rubo di Puglia, dove è stato rilevato un nuovo focolaio legato ad un farmacista infetto. L'altro caso si riferisce invece al territorio di Foggia. 0 nuovi malati per le restanti quattro province, si modifica in meglio inoltre il dato nella BAT, uno dei casi registrati nei giorni scorsi nella sesta provincia, è stato infatti eliminato dal database in quanto doppio, riportando così a 381 il totale degli infetti. Salgono così a 4386 i contagi complessivi nella regione, tenendo conto di attualmente positivi, pazienti guariti e deceduti. Si aggiorna il bilancio dei morti per cause collegate al Covid-19 con un'altra vittima accertata nella provincia di Brindisi, che fa salire così a 472 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. Cambia anche il numero riferito ai malati con novità decisamente migliori. Diminuiscono ancora infatti gli attualmente positivi, che sono 1.995, ieri erano 2.017. In calo anche le persone ricoverate con sintomi, 254, e quelle in terapia intensiva, 22. Sono invece 1.719 gli infetti in isolamento domiciliare. Si alza ulteriormente infine anche il dato sui pazienti che hanno sconfitto il virus, che salgono a quota 1.920, con 28 guariti in più rispetto all'ultimo bollettino regionale.